Bruno Fernandes, Valencia che si propone della tre quarti avversaria, tosht, attenzione, ecco il gol! Tiro incredibile, appena sotto la traversa. Valencia che si propone della tre quarti avversaria, all'una interessante, passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match, vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. Corona! Hanno trovato il pari dei minuti finali, ora il match cambia e chissà che non possa ancora regalare sorprese. L'inizio del match ora è tutta dalla loro parte, al posto loro, continuerà ad attaccare per provare a vincerla.